Raccontare storie partendo dai dati delle pubbliche amministrazioni. Questo è l'obiettivo del Piemonte Visual Storytong, spin-off del Piemonte Visual Contest, che ha preso il via il 6 marzo e si è concluso nei giorni del Salone del Libro. Organizzato da Consiglio regionale CSI Piemonte e Università di Torino, con la collaborazione del Digital Festival, ha portato alla creazione di sei storie su scuola, montagna, ambiente, salute, musei e genere. Il progetto è stato presentato nell'area Book to the Future, il primo giorno di Salone, dai docenti Giulio Lughi e Simone Arcagni, da Giuliana Bonello del CSI e da Domenico Tomatis e Fabio Malagnino del Consiglio regionale. I singoli lavori hanno avuto al Salone un loro spazio di un'ora al giorno dall'8 al 12 maggio.